Assasini! Assasini! Dio che macello, quando arrivo a San Lorenzo, bello, non c'era più un palazzo per guardarlo. Anche. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Tanta gente che poca il nome di sua figlia Libra. Questo che cosa significa per lei, soprattutto, che si trova in una prigione di Budapest? Significa tanto per Ilaria, perché Ilaria faremo sicuramente sapere cosa sta succedendo oggi qui per lei. Questo gli da forza, sicuramente. Porto della libertà.